ragazzi oggi la conferenza stampa la faccio io sto scherzando grande mister mister sarri oggi sono qui ospite del calcio napoli a vedere gli allenamenti e conoscere i ragazzi come già li conoscevo beh che dire carico tanto i ragazzi in vista delle partite che ci aspetta in questo tour dei forze soprattutto una partita contro il real al san paolo san paolo che deve esplodere di gioia che dire sempre solo forza napoli